Valeria Vassallo e Kevin Icebabi Nuovi corteggiatori di Uomini e Donne Presentati i nuovi tronisti di Uomini e Donne. . Si è conclusa da poco una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne, nella quale Alex Migliorini ha scelto Alessandro D'Amico. Da giorni non si fa che parlare dei nuovi tronisti del talk show e proprio durante la puntata sono stati presentati Nicolò Briganti e Nilou Faradati. . Con grande stupore, però, ad aver accettato il trono è stata anche Sara Affifella, l'ex fidanzata di Nicola Panico. . Di certo, non sono volti nuovi per i fan del talk show, infatti i prossimi tronisti hanno già partecipato a vari reality show. . Ma le sorprese riguardanti i nuovi troni non sono ancora finite. . . Vecchie conoscenze si fanno vive a Uomini e Donne. . Oltre ai nuovi tronisti, altre vecchie conoscenze si sono presentate nello studio di Uomini e Donne. . Infatti per le ragazze sono scesi dalle scale Kevin Ish e Babi, l'ex concorrente del Grande Fratello nonché ex fidanzato di Jessica Vella, e l'ex tentatore di Temptation Island Andrea Luceri. . . Sono tornati pure due ex corteggiatore di Ludovic Cavalli, Giordano Mazzocchi e Lorenzo Riccardi. . Per i ragazzi si è presentata invece Valeria Vassallo, divenuta nota a Temptation Island due anni fa. .